Finalmente è arrivata l'estate, la bella stagione che porta con sé caldo, sole, le tanto desiderate vacanze, tutti aspetti positivi dietro i quali però spesso si nasconde anche la faccia meno piacevole della medaglia. L'aumento eccessivo delle temperature e l'afa infatti possono essere nemici dell'energia a disposizione dell'organismo, causando stanchezza, spossatezza ed un malessere generale. Il fisico può quindi incontrare serie difficoltà ad affrontare le giornate godendosi la bellezza di questa stagione. In proposito, il Centro Analisi Biochimica per tutto il periodo estivo ha pensato di offrire un check-up per il controllo dei livelli sierici di tutti i micronutrienti, in modo da conoscere lo stato di salute dell'organismo e far fronte nel migliore dei modi all'arrivo delle alte temperature, integrando se necessario con la più opportuna alimentazione e con l'assunzione di integratori, sempre sotto il consiglio del proprio medico curante. Quando fa molto caldo, ha infatti affermato la dottoressa Laura Vegliante del Centro Analisi Biochimica, la temperatura corporea aumenta per effetto sia dell'ambiente circostante che del metabolismo. Tuttavia, l'organismo deve mantenere costante la propria temperatura interna, per permettere a tutte le reazioni biochimiche e ai meccanismi fisiologici essenziali per la vita di avvenire in modo ottimale. Il nostro corpo è in grado di dissipare il calore in eccesso grazie ad un processo chiamato termoregolazione, utilizzando diverse strategie, una delle più importanti, la sudorazione. Risulta quindi fondamentale, ha concluso la dottoressa Vegliante, controllare i livelli delle varie sostanze necessarie al nostro organismo, prima della integrazione di qualsiasi tipo di integratore. Aderire alla campagna di prevenzione è semplice, basterà recarsi in una delle sedi del Centro Analisi Biochimica, presenti a Padula, Atena Lucana e Battipaia, tutte le mattine, da lunedì al sabato, a partire dalle ore 7. Aderire alla campagna di prevenzione,